Il tema della consulenza, che ruolo svolgono in questo ambito le SGR? Le SGR in questo ambito come possiamo essere utili per la consulenza per migliorare il rapporto tra promotore finanziario e investitore oppure proprio bank investitore? Noi possiamo essere utili adottando uno stile di gestione sempre più prevedibile in modo da tutelare la relazione del tempo tra consulente e suo cliente. Quindi adottare una gestione sempre più focalizzata sulla selezione di titoli, azionale e obbligazioni che siano, ma focalizzata su questo evitando i grossi rischi e le grosse imprevedibilità nel portafoglio, evitando le bolle finanziarie, evitando tutti gli squilibri che purtroppo anni di eccessi nel mondo finanziario ci hanno portato. E considerando questo obiettivo come vi state muovendo e cosa pensate di offrire come servizio ai vostri partner nel 2014? Come tutti i nostri partner noi offremmo un servizio di riportistica molto semplice, molto chiaro. Non è un modello che stiamo ripensando questo qua perché la gestione di identità finanziaria è sempre stata semplice sin dagli inizi. Quindi noi abbiamo sempre selezionato azioni e obbligazioni, mai utilizzato derivati, mai utilizzato nulla che venisse dall'ingegneria finanziaria in genere. Quindi devo dire, quello che possiamo fare adesso è soltanto diffondere questo modello di servizio e di gestione fuori dall'Italia e dalla Francia che sono due mercati storici di Denzià, espandendoci anche nel resto dell'Europa continentale, in particolare Svizzera, Germania e Spagna.